E ciao ragazzuoli, benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale, io sono Rick Continuiamo nella Stovas, ci siamo risvegliati, anzi Joel si è risvegliato, quindi noi con lui dobbiamo andare a prendere Ellie che come vi ricorderete dall'ultimo video è stata catturata Grandissimo gioco ragazzi, niente da dire davvero Dove diavolo sei? Facciamoci subito un kit medico, aumentiamoci anche la salute massima, ok, ok Ok Ok, di qua non c'era in nessuna parte, qua dove c'era il cavallo appunto Non c'era in nessuna parte, non c'era in nessuna parte, non c'era in nessuna parte Usciamo, abbiamo la strada un po' più veloce Ellie! Dove è andata? Dove è? No, 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 no! Oh, no! Oh, no, no, no! Wow, 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 wow! Dove? Dove poche projekti in koi stracke No, 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 no! Porca miseria, oh! Hanno già tolto quasi due terzi di vite Si muove molto più lentamente, ragazzi, che prima Forza, amico, ma è solo due modi per uscire C'è qualcosa? Niente nemmeno qui, ci cerchiamo ancora Ho un'occhiata qui a te Oh, merda, lui è là! Ancora lì! Mi tocca espracare poi via il tiri Sei morto, bastardo! Mi a fare è molto l'occhiata Oh, merda, lei è lì Un'occhiata Per un'occhiata Ok. prendiamo questa che è decisamente più nuova, meno usurata non ti devo passare per forza di qua non ti devo passare per forza di qua allora, calma, calma, calma ovviamente ho sprecato ok, calma, 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 calma calma, 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 calma calma, 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 cal Ma che cazzo! Tu aspetta qui. Ora. La ragazza. Dimmi, è viva? Che ragazza? Non so di nessuna ragazza. Cazzo! Guardami, guardami! Te lo stacco questo ragazzo di ginocchio. La ragazza. Avviva! È il nuovo giocattolo di David. Dove? In città! In città! Ora me lo indichi sulla mappa. E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico. Segnalo. È lì, cazzo! Puoi controllare. Chiedilo a lui. Chieditelo. Te lo dirà. Non sto mettendo. Non sto... Vaffanculo, cazzo. Ti ha detto quello che volevi. Non so niente di più. Ok, va bene. Gli credo. No, aspetta questa! Sveglia, sveglia! Forza! Lasciami! Dai! Basta! Smettila! Ti avevo avvertita! Sono infetta! Sono infetta! Davvero? E ora anche tu. Guarda lì! Tirami sulla manica! Guarda lì! Starò al tuo gioco. Come che hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo. Merda! Merda! Cosa cazzo ha questa gente? Ho bisogno di un'arma. Ok! La ragazza è infetta ed è uscita. È una brutta notizia, ma adesso... Bene, voglio che raduniate tutti quelli che non sono armati e che li facciate uscire di qui. Oh mio Dio, un po' che ragazza è così Oh cazzo Oh mio Dio, questa volta lui è passato il limite Sono mesi che lo dico Gli abbiamo dato troppa corda, questa ragazza ha ucciso i nostri e ora il petto Ripuliamo questo casino, poi faremo un'assemblea cittadina e metteremo ai voti la sua leadership Oh mio Dio, non a questa parte, mi ridete di dire. Cavo, ci sono ovunque. Cavo, ci sono i nostri amici. Oh, cazzo! Coprimi, mi muovo! Ma cavolo, non ho più coltelli. Eh, più munizioni. Non c'è niente qua. Porca mia! Non posso neanche farmeli. E qui tu me edici? Ok. Sono voglia. Noi. Oh, cazzo! Noi. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Porca miseria. Sì. 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 Dove vado? Visto qualcosa? Niente Qui niente, cerchiamo ancora Cerco qui fuori, guardala Dove sono? Fa così freddo Non è la ragazzina? Non è la ragazzina La miglior soluzione della fuga ragazzi Perché ho già capito che Ad affrontarli tutti Sono davvero troppi Potrei andare su di lì Sì, infatti così Ok Bene ragazzoli Io direi che Anche per questo video è tutto Siamo Quasi alla mezz'ora Manca 5 minuti Però va bene Direi che possiamo fermarci qui Come al solito vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Per dirmi la vostra E anche un non mi piace ovviamente Se non avete gradito il video Noi ci vediamo Alla prossima volta Ciao ragazzoli